Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna ci sono 2 km di coda in diminuzione per un incidente ora risolto al km 315 tra Baldarno e Firenze Sud. In A11 possibili disagi per un incidente al km 34 tra Montecatini e Pistoia verso Firenze. Sulla statale Trebbistiverina fino al 22 dicembre scambio di carreggiata tra i km 149, 550 e 144, 700 con chiusura dello svincolo di Pieve Santo Stefano Sud in entrata e uscita in direzione Orte. A Firenze per l'avanzamento dei lavori di riqualificazione di Piazza dell'Isolotto sono in vigore di vieti di transito nella piazza da Via delle Hortensi a Lungarno dei Pioppi e in Via degli Gustri. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!